Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Una nobile degatuta del calcio del sud Italia arriva ad Agropoli dopo essere uscita in settimana dalla Coppa Italia perdendo 3-0 in casa del Savoia I pugliesi hanno 9 punti, uno in più dell'Agropoli in panchina siede Favarin, storico allenatore della squadra andriese La Fidelis dopo il successo nel derby contro il Brindisi sarà di scena in terra campana dunque contro l'Agropoli E' una trasferta importante per i Biagazzurri che hanno già collezionato 5 risultati utili consecutivi in 6 gare disputate Quella in programma al Guariglio con inizio alle ore 15 potrà essere eseguita da tifosi bianchi e azzurri con l'acquisto del tagliando l'ingresso allo stadio Non saranno a disposizione per la trasferta di Agropoli sicuramente il centrocambista catalano e l'attaccante Mattias Cristaldi ancora alle prese con un fastidio muscolare Saranno del match invece Capitan Palazzo ed Emanuele Tedesco in via di recupero dai rispettivi acciacchi Per l'Agropoli molto abbottonato l'allenatore Ferrazzoli il quale non dispone ancora di una punta dal mercato nessuno è arrivato e nemmeno il centrocampista richiesto dall'allenatore è stato recuperato sul mercato La gara per l'Agropoli è di fondamentale importanza se si considera la posizione di classifica al centro con pochi punti dai play-off e con un piede appunto nei play-out Inizio della gara domenica poveriggio state guariglie ore 15 prezzo del biglietto è di 10 euro il pubblico ancora una volta è chiamato a sostenere i delfini come annuncia Taccone anche se lo scarso interesse intorno alla squadra ormai ha condizionato non poco il cammino dell'Agropoli nell'ultimo quinquennio Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle